E' finito in tragedia uno spuntino organizzato in un'abitazione di Orgosolo. Un uomo di 45 anni, Angelo Filindeu, è stato accoltellato a morte da un compaesano. In manette con l'accusa di omicidio doloso aggravato, è finito Antonio De Vadis, di 50 anni, allevatore. L'omicidio è stato commesso stanotte attorno alle 3, in via Ungaretti, a Orgosolo. Tra i due, nel corso dello spuntino, è scoppiata una lite per futili motivi, forse alimentata anche da abbondanti libagioni alcoliche. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, De Vadis, al culmine dello scontro, avrebbe impugnato un coltello e sferrato due fendenti all'indirizzo di Filindeu. La vittima è caduta a terra ed è deceduta poco dopo. Scattato l'allarme sul luogo del delito, si sono recati gli agenti del commissariato di Orgosolo e della squadra mobile della questura di Nuoro. I poliziotti hanno cercato di fare luce sulla vicenda e sono risaliti al nome del presunto autore dell'omicidio, Antonio De Vadis, che è stato rintracciato poco dopo e condotto in commissariato. Successivamente, per De Vadis è stato disposto l'arresto. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Badu e Carros e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Laura Taddei. I rilievi sulla scena del delito sono stati fatti dagli specialisti del gabinetto provinciale e della polizia scientifica. Sul corpo della vittima, nelle prossime ore, verrà effettuata l'autopsia, che potrà fornire ulteriori elementi per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio.